Sì. Giovanni, perché ti fai chiamare piccolo? Cosa mi hai risposto la prima volta? Per un'evidenza estetica. Sì? Poi mi ha detto perché voglio fortemente che a un certo punto questo piccolo sparisca e diventi Giovanni. Sì. Giovanni, mi parli di dove sei cresciuto? Com'è sto paesino? Dai! Grazie a tutti.